ciao 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 pensavate mi fosse reso vero? qualcavolo niente pure niente può buttarmi giù figlio di trota guardalo guarda che faccia proprio oh mio no no ci ammazzati si ok sono morto grazie voi voi che bastardo pensavo di averlo trovato e mi hai trovato lui no figlio di tromba mi ha ucciso sono guai? spero che volevo dire che sono in piedi oh mio dio combo madafucker mi ha fatto il turbo calcio aereo dai che ti turbo calcio la mamma adesso no come mi ha pre... comincio a odiarlo sto gioco davvero si mi hai già ucciso non sapete che mi mangi ancora odioso sono morto contro questi ma dov'è finito il mio onore e pur che puttana basta io ho chiuso quel mimic via 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 ci prende ci ha pre... ci ha uccisi e abbiamo perso altre anime eh mancato si l'abbiamo ucciso festeggiamo lascia da battaglia abissale dopo tanto tempo non so da quant'è che non lo vedo lì c'è un brutto dannato che deve essere ucciso di media subito quindi andiamo di corsa no tu non lo fa l'abbiamo impedito perchè la gente diventa albero ma ah voglio botte che contento oh ca... oh 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 ma quanti sono? quanti sono? oh ganker di merda bexta... ah... no è messo in una posizione imposterana non credete? ecco qua infatti occhio salto mistico wow avvisami almeno vedo sto qua che parte alla velocità della luce contro di me mmm... allora è sbilanciato come roba sto gioco perchè ti trovi parti impossibili e poi parti che faresti anche occhi chiusi non potete farlo tutto difficile è difficile non dire niente meglio di no ecco qua nel 2 ci sarebbe stata un'imboscata cosa che non mi sarebbe piaciuta ok cosa cavolo è quel... quel bisonte con l'ascia oh oh ecco perchè non dovevo scendere oh mio dio è un wayblade umano oh mio dio è... è smog che cavolo ok cerchiamo di cerchiamo di parlare pacificamente va bene perchè sono a volte le troppe rotolate fanno girare la testa ma io non sono studiato e l'attacco lo stesso che volo fa e... qualcuno può spiegarmi cosa cazzo è successo aspetta che mi fermo non è stupi... come che le... abbia bextabato uno grande così ucciso oh puttanella gemma benedetta oh 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 mio dio che da sembra che abbiamo subito un danno gigantesco invece abbiamo subito un cazzo questa è stata una brutta mostra da parte a loro sai puttan che te si tocca a te bextabato ah qua qua ecco quale cella questa questa tu chi sei non ha detto ah no no tu dovresti essere una cosa meravigliosa sopito ah quello è un insediamento dunque questo non è questo non è che ne dici ok va bene va bene anello di vetro blu vieni su oh il sbaglio devo essere io com'è che sono morto in due secol... piccola di merda hai finito di fare Beyblade hai sbagliato cartone e siamo morti ancora dai ma si com'è che mi ha preso... ha fatto il colpo davanti a lui mi ha preso che era dietro ok sto tizio comincia a rompere le scatole eh oh mio dio cosa cazzo mi ha fatto e mi ha tolto mezza vita con un colpo vai cosa? cosa? ha fatto uno scatto disumano e l'elmo del persecutore quello? nooo l'affondo non me l'aspettavo e siamo morti ancora ciuppa crolla che tacco io ora un colpo questo qua è one punch man cazzo ahhh porca troia e vabbè ma però sono forti sti qua e dai però sono appena arrivato e qui perchè dovete mettermi le orecchie dove sono andate? ok colpa al culo no siccome ti sei un po' distante bordet della valle boh reale ah sei boh reale grazie no australe è un po' tutto di merda spero che mi uscita oh li facciamo il doppio del danno con la sciarbia eiii crinolino stop stop no allora quello che sta preparando non mi piace intanto beh nel dubbio bevo prego muori adesso l'abbiamo ucciso yeeeh al primo colpo non è vero un cazzo che il cancello sia aperto voglio riposarmi ora comunque ci vediamo al prossimo episodio e continuate a seguirmi